ah qui c'è la città qua quelli stanno aspettando la macchina guarda la c'è il problema perché fei maghi la direzione è fei ma non è passato no, lei è in barenda non è questo vedi vedi che non c'è sordo vieni 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 guarda lì vieni 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 in vieni 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 Cazzo come ti chiedono le barbine? Era molto veloce! No, no, come ti chiedono le barbine! Porca di una! È molto veloce! Guarda, guarda! 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 Cambio! Sbagliato, sbagliato! No, no, ha sbagliato! Guarda, guarda, guarda! Deve segnalare il problema! Sì, ma ha segnalato sicuramente! Ma c'è il come è stato! Non c'è il come è stato! Non è un problema! Ha scuuto! È passato, poverta, è un vento! È lì! È lì! io ti gaudo ehi luca regolante il culo e si vede a fare ehi no a bai dat eh la bella eh ho Fatso ha 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 ha